Il taxi con il main delay La pizza suspeita Il taxi con il chien Il taxi con il peso Il taxi con il peso Il taxi con il peso Bene, bene, bene. Sei da Bucharest? Sì. E' sospendata la terza volta. Ma devo marmarciare... devo marmarciare sopra la rotatoria. E lei è sarpicciata. Parca troia. Hai, hai Cassa, hai. Go, 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 go. Adio, hai dove ci provi la tante e andò. Non c'era, sai? Un pezzo di freddo. Fonico, è vero? Ciao.